Il sorriso regalato a quel passante Ciao, sono Anna di Idei Giovani per la rubrica C'è Tempo di Carta Carbone Festival. Attraverso il tema dell'introspezione vi presenterò oggi un libro, un film e un artista musicale. Il libro da me scelto è quello di Chiara Gamberale dal titolo Per Dieci Minuti. È la storia di Chiara che, dopo la separazione dal suo compagno, decide di dedicare dieci minuti al giorno del suo tempo per sfidare la monotonia e per fare qualcosa di completamente nuovo, inusuale. Si tratta di un libro sicuramente divertente, ma che attraverso le sue pagine ci aiuta a capire come molte volte le difficoltà della vita possono essere affrontate in maniera più leggera, come fossero un gioco. Il film da me scelto, che affronta il tema dell'introspezione, non è propriamente un film, ma è una serie tv. Il titolo è Fleabag e si sviluppa in due stagioni, quindi una serie tv anche abbastanza breve. Fleabag è anche il nome della protagonista, un personaggio del tutto particolare, dalla personalità stravagante, e noi, spettatori, siamo inevitabilmente portati a tuffarci dentro la sua persona e ad affrontare le diverse tematiche della vita, come ad esempio le relazioni sociali o i rapporti sessuali, attraverso il suo punto di vista. Un artista musicale da me scelto è invece Niccolò Fabi. Più precisamente il suo album Una Somma di Piccole Cose, una composizione musicale che, a detta dello stesso artista, è emersa e nata proprio dal dolore. Ed effettivamente in questo album si può sentire una nota di melanconia che aiuta proprio ad accettare il dolore e, perché no, anche ad elaborarlo. È una somma di piccole cose.